È un boato e quattro colpi secchi, hanno agganciato il bancomat e l'hanno diverto completamente e poi si sono allontanati facendo perdere le tracce di tutto. Un bancomat intero, sradicato in pochi minuti, è accaduto di notte accesa nella filiale del Monte dei Paschi di Siena un carro attrezzi, il mezzo utilizzato dai malviventi proprio per portare via il bancomat. Il tutto è stato immortalato dalle telecamere di videosorveglianza. Erano le 4.20 del mattino quando il mezzo è stato ripreso mentre si avvicinava alla banca. A quel punto sono scese due persone che hanno agganciato il bancomat e il carro attrezzi ha accelerato sradicando così lo sportello e mandando in frantumi la vetrina della filiale. Uno era lì mezzo alla strada e l'altro là, che si passava le macchine per fermarmi. E dopo sono corsi e uno gli diceva, allora vai 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 vai. I due hanno caricato il bancomat sul mezzo, sono risaliti e sono scappati. Un colpo lampo messo a segno in meno di 4 minuti. I malviventi erano quasi sicuramente più di 3. 8.000 euro il bottino, indagano i carabinieri.